Alexa, apri dov'è Babbo Natale? Sto trascorrendo una bellissima serata Ma questo è un pervertito Alexa! Zop, zop, che cazzo è? Ma sei pazzo? Allora, un giorno, che prima non abitavo qui, io piccolo, ingenuo Nonno, che mio nonno prima abitava qui Nonno, ma perché sparano i fuochi d'artificio qui a Marigliano? Eh, la risposta di mio nonno, tipo papà Castoro Papà Castoro, raccontaci una storia! Anche due storie! Lui stava davanti al camino Eh, a nonno, perché probabilmente è arrivata la droga e si festeggia È arrivata la droga, è arrivata la droga, è arrivata la droga E spaccinga roba nuova, e spaccinga roba nuova, e spaccinga roba nuova Ok, ok Sai, ma aspettavo una spiegazione più adatta ad un bambino Dai, aspettano a tutte le scenze, faccio subito Dai, zia, volevo pushare Eh, no, no, si fermo, si fermo Che pucero, si pucero, si pucero Ci pucero, ci pucero Dove? Da qua, 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 qua Da me, fu bloccata, fu, 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 fu Stai venendo, stai venendo Uno bianco, morto Morti? Ok Ora puoi andare No, 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 restare un'altra team no zio vado sei fermo non brillare che sia maraviglia era buggata la mappa dai gofaltera sei non piangere che io c'ho la barba e tu in faccia c'hai i peli del culo piccolo sacco di merda con la mamma la esci fuori dai coglioni body shaming nel 2020 testa di cazzo mi stanno fredando arriva mi stanno fredando mi stanno fredando vai vabbè sappiamo capricorni cazzo sono due crociate che non c'è la canna cecchia ma che ammò secondo te esiste o non sono mai per migliore di me secondo me si ma chi dà il tefo colpe dac zio alla nemechita morta ma come fai a sbagliare il tuo piede sei un icon tiene nuando e tirvo zitto sangue fuori 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 basta questa è l'ultima partita che io ho con Kilo Sugar è l'ultima è l'ultima perfetti i miei drop sono fucking perfetti e non c'è mai un cazzo qui sopra e lo prendo sempre in culo sempre in culo lo prendo sempre in culo così così mi piace si fortnite non c'è niente 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 Grazie a tutti